Dimocastro Dimocastro o Elinocastro o Erimocastro sono i nomi nuovi dell'antico luogo costiere che si trova vicino a Perdica, su una collina che si erge nella baia di Caravostassi. In questo luogo si trova l'antica Elina, città della popolazione degli Elini della Tesprozia. La città è stata organizzata nel IV secolo a.C., quando è stata fortificata con imponenti mura e torri e intervalli regolari, gran parte delle quali è mantenuta ancora oggi. Elina ha conosciuto uno sviluppo significativo durante il periodo ellenistico. Fu distrutta nel 167 a.C. dai Romani, come le altre principali città della Tesprozia. Tuttavia, non è stata abbandonata, ma ha continuato ad essere abitata durante il periodo romano. L'antico insediamento si sviluppa in modo incrementale su tre livelli, seguendo la forma della collina, definiti da fortificazioni. Gli scavi hanno portato alla luce importanti reperti, molti dei quali sono esposti nel Museo archeologico di Igumeniza. Dimo Castro è un sito archeologico organizzato con grandi dipartimenti dell'antico villaggio che sono visitabili.